Una buona serata a tutti e benvenuti in nostra compagnia Milano San Siro per il Milan Parma che ci conduce alla volata finale prima di Natale. Noi dobbiamo avere la forza di pensare solo ed esclusivamente a questa sera. Ci alziamo tutti in piedi, assolutamente, tutti presenti a San Siro per onorare la memoria di Pablito Rossi. Calulu contro Cervinio, ancora Cervinio, Cervinio, Calulu, Calulu cerca di tenerlo, la palla lì ed è il gol del Parma. Gol del Parma, libero, completamente libero Hernani, Parma in vantaggio, rete di Hernani. C'è ancora un recupero palla a Milan con Benassere Chessi, la palla sfila verso Hernández che salta l'avversario, Rebic, Rebic per Teoteo, Teoteo. Teoteo, Teoteo la mette in mezzo, gol! Ha pareggiato Samu Casti, ha pareggiato Samu Casti, ancora Castiglieco, ancora Castiglieco. 1-1 a Milano San Siro, ancora Castiglieco. Niente, fuorigioco, dannazione, fuorigioco. Vediamo, ecco il piede, la solita punta del piede in fuorigioco. Calabria, Calabria per Brahim, 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 poi incrocio dei pali, anche l'incrocio dei pali, il tiro, altro palo traversa, basta, basta, basta! Ciala, ma ancora il palo, ancora il palo, ancora tra il palo e la mano di Seppe. Vediamo, splendida punizione di Cialanoglu. Altro palo, terzo palo, tre pali, è la fiera dei pali. Si sgancia Calabria e viene servito, bravo Raffaello, ancora Calabria, Calabria, Calabria dentro, Raffaeleao, Ciala, Ciala, tiro, traversa, è la quarta, è la quarta, è la quarta, basta! Basta prendere traverse, basta! La palla è lunga, la palla è lunga, ma ci arriva il Parma con Hernani, attenzione, e c'è il gol, incredibile, 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 due tiri in porta, due gol, Kurtic. Ecco Cialanoglu, che va al cross, il colpo di testa, il gol, e c'è il gol del Milan, e c'è il gol del Milan, con Teo Hernández, vai Teo, Teo, porta la centrocampo, e basta con sta partita, basta con sta partita, basta! Eccolo Cala, per Cialanoglu, Cialanoglu, carica, tira, la deviazione di Seppe, e perché non c'è nessuno vicino a Seppe, perché siamo lontani dal portiere? Cialanoglu, 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 Calabria, Calabria la mette in mezzo, il tiro, la parata di Seppe è incredibile, Teo Hernández, gol, 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 Teo Hernández, Teo Hernández, la fossa Parma, gol, gol, quattro pari e due gol, quattro pari e due gol, quattro pari e due gol, Teo Hernández, gol, fischia anche prima che hanno perso, tre ore hanno perso, fischia anche prima, incredibile la quantità industriale di tempo perso stasera, tre minuti e cinquantacinque secondi di recupero, dovevano essere almeno sette, almeno, sempre al fianco dei nostri ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie a tutti.